Un connubio non certo consueto, ma se parliamo di alimentazione e salute, cucina e scienza farmaceutica si possono incontrare, così come è successo nella piazza di Parona, ennesima tappa del camper di Farma Vegana, la realtà che dal 2013 si fa portavoce di uno stile di vita vegano, attento al gusto e alla salute per prevenire e affrontare soprattutto a tavola i disturbi più comuni. Farma Vegana è una rete, un network di farmacisti, attualmente sono 350 sparsi su tutto il territorio nazionale che hanno intrapreso un percorso medico professionale di altissima fascia, sono quattro livelli con tanto di esami, c'è da studiare tanto sulla nutrizione, perché questo? Perché abbiamo capito tutti quanti ormai che l'alimentazione gioca un ruolo cruciale sul discorso salute ed è arrivato il momento che anche coloro che occupano dei punti cruciali in Italia, che sono proprio i nostri farmacisti, inizino ad affrontare questo tema così delicato, visto che le malattie sono in costante aumento e c'è bisogno di sapere un po' di più sulla nutrizione e l'alimentazione. Dopo essere stato a Bergamo, Milano, Gorizia e in procinto di partire per Savona e poi la Puglia e la Sicilia, questo camper verde ha raccontato anche ai veronesi il bello della cucina legata alla terra, ai prodotti di stagione, allo stile di vita di chi sceglie, anche solo per brevi periodi, un'alimentazione vegana o vegetariana. Io mi rendo conto che la gente anche ha capito sicuramente che dobbiamo introdurre maggior frutto e verdura nel nostro organismo, ma le difficoltà sono quanta, come, mi farà bene, mancheranno gli enzimi, mancheranno le vitamine. Allora qui entriamo in gioco noi di Farma Vegana con appunto questi corsi che vanno tra l'altro a lavorare in sinergia con cosa? Con la medicina funzionale voluta. Cioè questo è un progetto che sposa tante cose, tra cui anche una serie di, un'azienda che si occupa di medicina funzionale voluta e quindi lavora proprio sulle reazioni metaboliche del nostro organismo a seconda dei cibi, che fa test per vedere a cosa siamo intolleranti, esperienza ventennale, alimentazione vegan crudista che sta spopolando in altri stati. Il nostro obiettivo non è trasformare tutti in vegani, ma far capire alla gente che c'è un modo facile per ridurre drasticamente il consumo di proteine animali, che non è la bistecca, non è il formaggio, ma è tutto ciò che mangiamo di derivati e che troviamo nei supermercati, in tutto il reparto biscotti, reparto junk food. Mangiare un po' meglio, cose un po' più naturali. Noi siamo qui appunto per insegnare alla gente piccoli trucchetti e consigli, tutto a livello gratuito, per capire come introdurre appunto maggior frutta e verdura.